Archiviazione per la di Gaetano, l'amministratrice dell'affirriato ha ricevuto l'archiviazione sulla denuncia presentata dalla cantina siciliana che nel frattempo chiede in sede civile risarcimento per oltre 150.000 euro. Buongiorno e bentrovati con la nostra prima finestra informativa dedicata alla notizia del giorno. Dopo il duro pronunciamento della sezione specializzata in materia di impresa di Catania, il GIP di Trapani solleva da ogni responsabilità Irene di Gaetano, evidenziato invece il pieno e diretto coinvolgimento del distributore inglese. Firriato è lieta di comunicare che l'accusa di contraffazione e utilizzo abusivo del marchio Cantina Siciliana, scatolita dalla denuncia dello chef Pino Maggiore, è stata archiviata dal GIP presso il tribunale di Trapani, Caterina Brignone, in quanto gli accertamenti svolti hanno consentito di escludere qualsivoglia responsabilità. Così comincia il comunicato stampa inviato ieri dall'azienda Vinicola, comprensibilmente soddisfatta per questo primo pronunciamento da parte di un giudice di merito. L'azienda, che ha sempre agito nel pieno rispetto delle leggi e dei diritti dei terzi, continua la nota, si riserva di assumere ogni iniziativa per ottenere adeguato e dovuto ristoro dagli ingenti e milionari danni d'immagine patiti a seguito di un'accusa gratuitamente denigratoria rispetto alla quale l'autorità giudiziaria trapanese ha ristabilito la verità riconoscendo la totale innocenza di Firriato. Una vicenda comunque che sembra ben lungi dall'essere conclusa, visto che la stessa Brignone rileva che le indagini espletate hanno evidenziato il pieno e diretto coinvolgimento di Ziu Davi, responsabile della Direct Wines, distributore inglese dell'azienda Vinicola, in separato procedimento che avrebbe rassicurato la Firriato che l'azienda fosse in ordine al coinvolgimento del Maggiore nel progetto. Ha presa la notizia, lo chef Pino Maggiore si riserva di ricorrere gerarchicamente al provvedimento, altrettanto c'è da capire se altri siano restati indagati per presunte responsabilità sui fatti, che restano tuttavia assai surreali per la dinamica che portò alla distribuzione, tramite l'inglese Direct Wines, di un prodotto con tanto di nome dello chef e logo della cantina siciliana nell'etichetta. Infatti Maggiore, nella denuncia presentata ai carabinieri di Trapani, chiese di accertare presunte condotte delittuose in concorso di quattro persone, però non di Irene Di Gaetano, entrata ad ufficio nel procedimento in qualità di rappresentante legale. Fra questi, lo stesso Ziv e Salvatore Di Gaetano, all'epoca dei fatti, membro del CDI e titolare del 98% delle azioni della Firriato. Su quest'ultimo in particolare non è chiaro se la posizione sia stata stralciata assieme a quella del dipendente della Direct Wines e vada verso l'archiviazione. Ma il noto ristoratore trapanese, che proprio in queste settimane ha festeggiato i 60 anni del suo locale, aveva già depositato una situazione in giudizio contro la Firriato, che tramite un triangolo di collegate, responsabili insolido a dire della parte attrice, l'inglese Direct Wines, appunto, e di una società satellite, la AVS, che ha sede legale nello stesso stabilimento Pacecoto, si sarebbero rese protagoniste di una vicenda che oggettivamente è apparsa da subito curiosa. 150 mila euro, più una serie di somme accessorie, tra le quali una royalty ragionevole, che tenga conto a posteriori dell'illecita utilizzazione. Questa, la richiesta depositata al Tribunale di Catania, che già si era pronunciato lo scorso settembre, con la sua sezione specializzata in materia di impresa, nei confronti delle convenute in quattro pagine di misure cautelari oggettivamente dure, provvedimento impugnato, e sul quale la giudice Adriana Puglisi si pronunciò lo scorso dicembre, revocando l'ordinanza precedente, ritenendo l'insussistenza del periculum immoral. In sostanza, il Presidente di Corte, senza entrare nel merito della vicenda oggetto del pendente giudizio di merito, si è limitato a revocare le misure cautelari, ritenendo interrotta, sulla base del verbale di precedente sequestro penale, la produzione e distribuzione del vino oggetto di contraffazione. Adesso il giudice di merito, intentato dal legale di Maggiore, Rosarina Iacona, nei confronti delle due aziende, vedrà la prossima udienza il 12 novembre con l'esame delle richieste istruttorie formulate dalle parti. Insomma, la parola fine sembra ben lontana dall'essere scritta. Ci fermiamo solo un attimo, poi torniamo con le altre notizie. Ergastolo, il carcere a vite è stato chiesto dal PM nei confronti del presunto assassino del maresciallo dei carabinieri Silvio Mirarchi in servizio a Marsala. Vendemmia irregolare, quattro lavoratori nero sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza nelle campagne di Buseto Palizzolo, denunciato il proprietario del vigneto. Io mi ricordo di te, presentato il programma delle iniziative organizzate in occasione del trentesimo anniversario dalla morte di Mauro Rostagno. Convocato il Consiglio Comunale, la conferenza dei capigruppo del Consesso Civico di Trapani ha fissato il nuovo calendario dei lavori in aula. Trapani deferito, la società Granata non ha versato nei termini la garanzia di 350 mila euro, ora rischia un punto di penalizzazione, intanto stasera il Trapani scenderà in campo nel derby con la Sicura Leonzio, si gioca alle 20.30. Il bando per la promozione turistica, per l'approfondimento delle 14.20, torneremo ad occuparci dell'aeroporto Vincenzo Florio di Virgi. Entro l'8 ottobre vanno presentate le domande. Eccoci di nuovo insieme con le nostre notizie. Ergastolo, questa è la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti dell'assassino del maresciallo dei carabinieri Silvio Mirarchi. Vediamo. La condanna al carcere a vita con 18 mesi di isolamento diurno è stata invocata dal PM Anna Sessa per Nicolo Girgenti, 47 anni, bracciante agricolo e vivaista di Marsala, processato dinanzi alla Corte d'Assise di Trapani, con l'accusa di essere uno degli autori, in concorso con i gnoti, dell'omicidio del maresciallo capo dei carabinieri Silvio Mirarchi. Il sotto ufficiale fu ferito a morte con un colpo di pistola la sera del 31 maggio 2016 nelle campagne di Contrada Ventrischi, nell'entroterra di Marsala, mentre, con un altro carabiniere, l'appuntato Antonello Massimo Cammarata, era impegnato in un appostamento volto a contrastare furti in campo agricolo nei pressi di una serra all'interno della quale furono poi scoperte 6.000 piante di marijuana. Sette sarebbero stati, secondo gli inquirenti, i colpi di pistola esplosi da almeno due persone contro i militari dell'arma. Girgenti fu arrestato il 22 giugno di quello stesso anno. Deteneva a casa un fucile a canne mozze. Angelo Sucameli, 41 anni, di Mazzara del Vallo, è stato arrestato dai carabinieri. Quando gli investigatori sono entrati nella sua abitazione per procedere ad un controllo, avrebbe tentato di disfarsi dell'arma, tentando di gettarla da una finestra comunicante con la casa degli genitori, che è diacente proprio alla sua, ma il fucile è stato immediatamente recuperato. Blitz della Guardia di Finanza nelle campagne di Buseto Palizzolo, scoperti quattro lavoratori in nero. Vediamo. Quattro lavoratori in nero, tutti italiani, impiegati nella vendemmia, sono stati scoperti dai militari della Guardia di Finanza di Trapani. Il blitz delle fiamme gialle è scattato a Buseto Palizzolo. Il proprietario del vigneto è stato segnalato all'Ufficio Provinciale del Lavoro. Deve rispondere di violazione delle norme in materia di impiego di mano d'opera. Gli sarà combinata una sanzione pecuniaria che potrà arrivare fino a un massimo di 36.000 euro. L'attività ispettiva, si legge in una nota diramata dal Comando Provinciale, si colloca nell'ambito della missione istituzionale del contrasto all'illegalità economica e finanziaria, allo scopo di tutelare il corretto andamento del mercato del lavoro. Altri controlli saranno eseguiti nei prossimi giorni anche in altri settori economici. Una serie di problemi nei collegamenti con le isole Egadi sono stati al centro di un incontro tra il sindaco Pagoto, l'amministratore giudiziario e la dirigenza della Liberty Lines. Il sindaco delle isole Egadi, Giuseppe Pagoto, assieme al consigliere comunale Pietro Torrente, nei giorni scorsi ha incontrato l'amministratore giudiziario, l'avvocato Marco Montalbano e la dirigenza della Liberty Lines per affrontare alcune problematiche riguardanti il trasporto marittimo con mezzi veloci sia relativamente agli orari e alle tratte che ai servizi e ai passeggeri. Le criticità e i problemi evidenziati dall'amministrazione comunale sono stati segnalati da numerosi cittadini e dai turisti. Il sindaco Pagoto ha tenuto a ringraziare l'avvocato Montalbano e la dirigenza della Liberty per la disponibilità mostrata nel voler non solo discutere e affrontare alcune questioni legate alle prenotazioni e alle disponibilità di posti da e per marittimo, ma anche per aver individuato alcune soluzioni per la prossima stagione estiva. Nel corso del lungo incontro è stato affrontato anche il tema collegato ai lavori sui respingenti alle coperture nelle aree di attracco, mezzi e riparo passeggeri per i quali, in collaborazione con il servizio De Manio della regione siciliana, occorrerà un intervento urgente. Ci prendiamo solo un attimo di pausa, poi torniamo qui con una nuova edizione. Io mi ricordo di te presentato il programma delle iniziative organizzate in occasione del trentesimo anniversario della morte di Mauro Rostagno. Convocato il Consiglio Comunale, la conferenza dei capigruppo del Consesso Civico di Trapani ha fissato il nuovo calendario dei lavori d'aula e per lo sport Trapani deferito. La società Granata non ha versato nei termini la quota di 350 mila euro. Ora rischia un punto di penalizzazione, intanto per il calcio giocato questa sera alle 20.30 al fischio d'inizio di Trapani Sicula Leonzio. È stato presentato questa mattina a Trapani negli uffici comunali di Piazza Framichele Burgio il programma delle iniziative organizzate per il trentesimo anniversario della morte di Mauro Rostagno. Presenti all'iniziativa i sindaci dei comuni di Trapani, Valderice, Erice, Paceco, Busetto, Palizzolo e Favignana oltre che i rappresentanti delle associazioni coinvolte nel programma Io mi ricordo di te, organizzato per ricordare Mauro Rostagno in occasione del trentesimo anniversario del suo omicidio. Le iniziative si apriranno domani alle 10 in contrada Lenzi con la commemorazione davanti alla stele mentre alle 11.30 ci sarà la cerimonia laica a Ragosia. Un dovere morale prima che istituzionale è ricordare quest'uomo che ha deciso di vivere a Trapani proprio per scelta. Noi come comune di Valderice vogliamo ricordarlo con diversi appuntamenti. Mi auguro che ci sia tanta partecipazione, soprattutto dei giovani, perché i giovani devono sapere quella che è stata la nostra storia a quella che quest'uomo ha fatto per la provincia di Trapani, l'impegno contro la criminalità organizzata. Nel pomeriggio le iniziative si sposteranno a Trapani dove alle 14 a Palazzo Cavarretta saranno proiettati ITG e diversi video di Mauro Rostagno. Alle 17 al Molino Excelsior di Valderice ci sarà la proiezione del documentario La rivoluzione in onda di Alberto Castiglione mentre alle 20.30 ci sarà la scopertura di una targa commemorativa in ricordo di Rostagno. Ma io credo che l'occasione del trentesimo porti un fatto nuovo e Mauro sarebbe in un certo modo contento. Storie diverse, amministrazioni diverse, un territorio omogeneo da Castellammare a Paceco, da Trapani a Valderice e con gli altri comuni dall'Ega di Aderice si incontrano per condividere il pensiero, l'idea, il sentirsi cittadini di comuni senza confini in omaggio e in memoria a una persona che in questa direzione si è spesa. Penso che sia anche un bel modo per ricordare e rendere omaggio a Mauro Rostagno magari in una piazza pubblica aperta che lui amava e che era quella dell'ex mercato del pesce dove domani attorno alle 20.30 offriremo una dedicazione. E offriremo una dedicazione a un trapanese che ha deciso di scegliere Trapani pur non essendo vinato. Convocato il Consiglio Comunale di Trapani, l'Assemblea di Palazzo Cavarretta tornerà a riunirsi nei giorni 1 e 4 ottobre. Il Consiglio Comunale di Trapani tornerà a riunirsi i giorni 1 e 4 ottobre alle ore 19 nell'Aula Consiliare del Palazzo Cavarretta. La nuova sessione di lavori è stata definita dalla conferenza dei capigruppo riunitasi nel discorso all'ordine del giorno, tre delibere, due mozioni e un atto di indirizzo. Di particolare rilevanza la proposta di modifica del regolamento TOSAP, suolo pubblico per attività temporanee che dovrebbe essere discussa nella seduta di giovedì 4, stante che la seduta di apertura lunedì 1, secondo quanto stabilito in conferenza, sarà dedicata all'attività ispettiva. Le altre due delibere riguardano i debiti fuori bilancio, le mozioni, vertono su collocazione nel territorio comunale di un distributore di acqua naturale gassata e plastica free challenge, mentre l'atto di indirizzo è relativo all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani per la tutela dell'ambiente, per la promozione e l'uso efficiente delle risorse. La conferenza ha autorizzato la Saman di Trapani ad apporre domani un banner in ricordo di Moro Rostagno sulla balconata del Palazzo Cavarretta in occasione del trentesimo anniversario della sua uccisione per mano mafiosa. Sempre domani l'androne del Palazzo ospiterà la proiezione di audiovisivi sul giornalista sociologo. Si tratta di un importante contributo, ha dichiarato Peppe Guaiana, presidente del Consiglio Comunale di Trapani, per onorare la memoria di un uomo coraggioso che tanto ha fatto per la città. A San Vito e Lo Capo intanto continuano gli appuntamenti della ventunesima edizione del Cuscus Fest e questa sera il cooking show di Filippo Lamantia. In attesa dell'inizio del campionato internazionale con i 10 paesi in gara che verrà inaugurato domani sera e prenderà il via giovedì 27, al Palabia continuano gli appuntamenti con i cooking show. Ieri alle 18 e alle 20 due momenti targati Electrolux Experience con Alessandro Ravanà, chef del ristorante Il Salmorio di Porto Empedocle e di Pietro D'Agostino, chef Una Stella Michelin del ristorante La Capinera di Taormina. Oggi poi alle 20 e 30 sempre al Palabia l'atteso cooking show con degustazione a cura dello chef Filippo Lamantia che preparerà un Cuscus di grano saraceno con ragù misto, piselli e caciocavallo stagionato. Ma la rassegna non è solo cibo e degustazioni. Alle 21 e 30 spazio a Caffè Le Cuscus con gli scrittori Gian Mauro Costa e Pier Giorgio Di Cara che converseranno sul giallo siciliano. Alle 22 poi dal palco spiaggia si torna a parlare di musica. Stasera sarà la volta di Al-Sara e Denu Batuns. Ieri invece ad animare la serata è Fanfara Station, il progetto musicale del cantante tunisino Marzuk Mairi che hanno messo insieme sonorità acustiche ed elettroniche che hanno coinvolto con i ritmi del Maghreb. Si chiama Fanfara Station perché c'è il doppio senso. Usiamo il Loop Station perché noi registriamo i nostri strumenti e c'è anche il senso della stazione dove arrivano i migrati, tutta la gente, l'incontro di tutti i popoli nelle stazioni. Di improvvisazione, di celebrazione di culture, di incontri, di andare oltre i confini, di fare stare bene alle persone sia a noi e da lì contagiare anche questo stare bene alle altre persone. Perché Fanfara Station in realtà nasce da loro due e poi io mi sono aggiunto perché mi stavano particolarmente simpatici. E adesso le previsioni del tempo. Domani un abbassamento delle temperature e entra il vento di Grecale. Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà sereno. Le temperature saranno comprese fra i 23 e i 27 gradi con venti che soffieranno da nord-est. Il mare sarà mosso. In serata i venti soffieranno da nord-est. Per domani mattina il cielo sarà sereno. I venti forti soffieranno da nord-est. Calo delle temperature. La minima si attesterà attorno ai 18 gradi sui 23 le massime. Il mare sarà molto mosso. I venti soffieranno da nord-est. E invece per quanto riguarda gli appuntamenti sulla nostra emittente in diretta da San Vitolo Capo per la ventunesima edizione del Cuscus Fest trasmetteremo alle 16, alle 18 e 30, alle 20 e 30 il cooking show. Invece alle 21 e 30 appuntamento con il talk Café Le Cuscus. Adesso una breve pausa e poi torniamo col pre-partita di Trapani. Sicula Leonzio. Dopo la partita di sabato con la Vibonese per il Trapani è già tempo di giocare. Questa sera alle 20 e 30 allo stadio provinciale di scena il derby con la Sicula Leonzio. La Leonzio l'abbiamo purtroppo studiata in pochissimo tempo e ha vinto una gara importante contro il Matera quasi chiusa nella prima frazione Juanito e Gomez sono un calciatore di categoria superiore se sta bene può fare la differenza ha fatto gol Ripa è un attaccante di categoria hanno un'ottima organizzazione e saranno sicuramente un avversario difficile da affrontare in più quando arrivi da una vittoria così sonora e tra virgolette senza faticare troppo chiaramente arriverà un avversario carico con lato stima a mille e dobbiamo aspettarci dobbiamo cercare di controbattere con lo stesso spirito che abbiamo fatto in queste due gare qua La Leonzio è una squadra attua allo stesso nostro sistema di gioco è una squadra che ripeto sicuramente verrà qui con l'autostima a Miller che battere e vince una partita così crea grande autostima e aspettiamoci una gara tosta e difficile Queste invece le partite della terza giornata di Serie C Girone C Siracusa Paganese si giocherà alle 14.30 e poi alle 20.30 Bisceglie Casertana Catanzaro Vibonese Juve Stabia Potenza Monopoli Rende Trapani Sicula Leonzio Franca Villarieti e poi rinviate Matera Catania Viterbese Regina e poi diciamo la notizia del giorno anzi di ieri pomeriggio la notizia di un riferimento a carico del Trapani per responsabilità diretta della dottoressa Paola Iracani a seguito di una segnalazione della Covizoc per non aver provveduto entro il 30 giugno del 2018 al deposito della garanzia a prima richiesta dell'importo di 350.000 euro Cosa rischia il Trapani? Ebbene può rischiare fino a un punto di penalizzazione ovviamente torneremo poi sulla vicenda Torniamo invece sulla partita di questa sera ed andiamo a vedere l'ipotesi delle formazioni da parte di Francesco Francioso Mi aspetto sicuramente una gara difficile perché preparare una gara dopo 48 ore la partita di Vibonese contro la Vibonese non è facile anche il mister ha detto che ha avuto poco tempo per vedere l'avversario ma sicuramente sarà una partita interessante io ritengo che queste prime due partite contro le due calabresi mi riferisco alla Regina e alla Vibonese siano stati diciamo alla nostra portata e mi aspetto un avversario un po' più difficile e lì realmente capiremo le nostre ambizioni dove possono arrivare sicuramente ci sarà qualche cambio partiremo con la difesa a 4 quello che abbiamo visto a Vibo Valencia per diversi motivi tra cui l'indisponibile in difesa che non danno la possibilità al mister di poter apportare modifiche e pertanto giocheremo con la difesa a 4 con Scrulli a destra centrali Mule e Pagliarulo dall'altra parte Ramos al centrocampo molto probabilmente ci sarà una partita di riposo per Aloi al suo posto Costa Ferreira mentre in avanti uno tra Tulli e Golfo si riposerà e uno entrerà al posto di Ferretti prendere il posto uno dei due di Ferretti Il bando per la promozione turistica. Per quanto riguarda l'approfondimento di oggi parliamo dell'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi entro l'8 ottobre. Le domande per il bando di promozione del turismo. C'è tempo fino alle ore 13 dell'8 ottobre 2018 per partecipare al bando per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione per favorire l'incremento delle presenze turistiche nel territorio su cui insiste l'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Un progetto ideato da Airgest e finanziato dalla regione siciliana per un valore complessivo di 11 milioni e 200 mila euro. E' articolato in 25 lotti nazionali ed internazionali che dovranno essere garantiti per tutta la durata dell'affidamento pari a 36 mesi. Ogni operatore economico, agenzie di comunicazione legate a compagnie aeree potrà partecipare a uno o più lotti. E' un'occasione fondamentale per far ritornare i visitatori a conoscere le bellezze e la cultura del territorio trapanese e dare una spinta all'economia dei luoghi, commenta il presidente del CDA di Airgest, Paolo Angios. Il programma pluriennale di promozione territoriale dovrà essere realizzato mediante azioni di web marketing inserendo link, testi, grafiche, video e foto sulle home page dei portali web dei vettori aerei interessati, da veicolarsi anche tramite l'indirizzo web dell'aggiudicatario chiamato a prestare i servizi di promozione. Gli strumenti di comunicazione richiesti per la realizzazione della campagna saranno spazi pubblicitari utilizzati da compagnie aeree nazionali o estere, da società concessionarie di spazi pubblicitari controllate da una compagnia aerea o in alternativa costituiti in RTI con una compagnia aerea. I servizi di promozione e comunicazione interesseranno il territorio dei 12 comuni facenti parte del comprensorio su cui insiste l'aeroporto Alcamo, Busetto-Palezzolo, Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazzara, Castellammare del Golfo, Custonaci, Favignana, Marsala, Paceco, Ragusa, Salemi, Valderice. L'amministratrice della Firriato Irene Di Gaetano ha ricevuto l'archiviazione sulla denuncia presentata dalla Cantina Siciliana che nel frattempo chiede in sede civile il risarcimento per oltre 150 mila euro. Firriato è lieta di comunicare che l'accusa di contraffazione e utilizzo abusivo del marchio Cantina Siciliana scatolita dalla denuncia dello chef Pino Maggiore è stata archiviata dal GIP presso il Tribunale di Trapani Caterina Bregnone in quanto gli accertamenti svolti hanno consentito di escludere qualsivoglia responsabilità. Così comincia il comunicato stampa inviato ieri dall'azienda Vinicola, comprensibilmente soddisfatta per questo primo pronunciamento da parte di un giudice di merito. L'azienda, che ha sempre agito nel pieno rispetto delle leggi e dei diritti dei terzi, continua la nota, si riserva di assumere ogni iniziativa per ottenere adeguato e dovuto ristoro dagli ingenti e milionari danni d'immagine patiti a seguito di un'accusa gratuitamente denigratoria rispetto alla quale l'autorità giudiziaria trapanese ha ristabilito la verità riconoscendo la totale innocenza di ferriato. Una vicenda comunque che sembra ben lungi dall'essere conclusa, visto che la stessa Bregnone rileva che le indagini espletate hanno evidenziato il pieno e diretto coinvolgimento di Ziu Davi, responsabile della Direct Wines, distributore inglese dell'azienda Vinicola, in separato procedimento che avrebbe rassicurato la ferriato che l'azienda fosse in ordine al coinvolgimento del Maggiore nel progetto. Ha presa la notizia, lo chef Pino Maggiore si riserva di ricorrere gerarchicamente al provvedimento, altrettanto c'è da capire se altri siano restati indagati per presunte responsabilità sui fatti, che restano tuttavia assai surreali per la dinamica che portò alla distribuzione, tramite l'inglese Direct Wines, di un prodotto con tanto di nome dello chef e logo della cantina siciliana nell'etichetta. Infatti Maggiore, nella denuncia presentata ai carabinieri di Trapani, chiese di accertare presunte condotte delittuose in concorso di quattro persone, però non direne di Gaetano, entrata ad ufficio nel procedimento in qualità di rappresentante legale. Fra questi, lo stesso Ziv e Salvatore di Gaetano, all'epoca dei fatti, membro del CDI e titolare del 98% delle azioni dell'afferriato. Su quest'ultimo in particolare non è chiaro se la posizione sia stata stralciata, assieme a quella del dipendente della Direct Wines, e vada verso l'archiviazione. Ma il noto ristoratore trapanese, che proprio in queste settimane ha festeggiato i 60 anni del suo locale, aveva già depositato una situazione in giudizio contro l'afferriato, che tramite un triangolo di collegate, responsabili insolido a dire della parte attrice inglese, Direct Wines appunto, e di una società satellite, la AVS, che ha sede legale nello stesso stabilimento Pacecoto, si sarebbero rese protagoniste di una vicenda che oggettivamente è apparsa da subito curiosa. 150 mila euro, più una serie di somme accessorie, tra le quali una royalty ragionevole, che tenga conto a posteriori dell'illecita utilizzazione. Questa la richiesta depositata al Tribunale di Catania, che già si era pronunciato lo scorso settembre, con la sua sezione specializzata in materia di impresa, nei confronti delle convenute in quattro pagine di misure cautelari oggettivamente dure. Provvedimento impugnato, e sul quale la giudice Adriana Puglisi si pronunciò lo scorso dicembre, revocando l'ordinanza precedente, ritenendo l'insussistenza del periculum in mora. In sostanza, il Presidente di Corte, senza entrare nel merito della vicenda oggetto del pendente giudizio di merito, si è limitato a revocare le misure cautelari, ritenendo interrotta, sulla base del verbale di precedente sequestro penale, la produzione e distribuzione del vino oggetto di contraffazione. Adesso il giudice di merito, intentato dal legale di maggiore Rosarina Iacona, nei confronti delle due aziende, vedrà la prossima udienza il 12 novembre, con l'esame delle richieste istruttorie formulate dalle parti. Insomma, la parola fine sembra ben lontana dall'essere scritta. Ergastolo, questa la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti dell'assassino del maresciallo dei Carabinieri, Silvio Mirarchi. La condanna al carcere a vita, con 18 mesi di isolamento diurno, è stata invocata dal PM Anna Sessa per Nicolo Girgenti, 47 anni, bracciante agricolo e vivaista di Marsala, processato dinanzi alla Corte d'Assise di Trapani, con l'accusa di essere uno degli autori, in concorso con i gnoti, dell'omicidio del maresciallo capo dei Carabinieri, Silvio Mirarchi. Il sotto ufficiale fu ferito a morte con un colpo di pistola la sera del 31 maggio 2016, nelle campagne di Contrada Ventrischi, nell'entroterra di Marsala, mentre, con un altro carabiniere, l'appuntato Antonello Massimo Cammarata, era impegnato in un appostamento volto a contrastare furti in campo agricolo, nei pressi di una serra all'interno della quale furono poi scoperte 6.000 piante di marijuana. Sette sarebbero stati, secondo gli inquirenti, i colpi di pistola esplosi da almeno due persone, contro i militari dell'arma. Gergenti fu arrestato il 22 giugno di quello stesso anno. Una serie di problemi di collegamenti con le isole Egadi sono stati al centro di un incontro tra il sindaco Pagoto, l'amministratore giudiziario e la dirigenza della Liberty Lines. Vediamo. Il sindaco delle isole Egadi, Giuseppe Pagoto, assieme al consigliere comunale Pietro Torrente, nei giorni scorsi ha incontrato l'amministratore giudiziario, l'avvocato Marco Montalbano e la dirigenza della Liberty Lines per affrontare alcune problematiche riguardanti il trasporto marittimo con mezzi veloci sia relativamente agli orari e alle tratte che ai servizi e ai passeggeri. Le criticità e i problemi evidenziati dall'amministrazione comunale sono stati segnalati da numerosi cittadini e dai turisti. Il sindaco Pagoto ha tenuto a ringraziare l'avvocato Montalbano e la dirigenza della Liberty per la disponibilità mostrata nel voler non solo discutere e affrontare alcune questioni legate alle prenotazioni e alle disponibilità di posti da e per marettimo, ma anche per aver individuato alcune soluzioni per la prossima stagione estiva. Nel corso del lungo incontro è stato affrontato anche il tema collegato ai lavori sui respingenti, alle coperture nelle aree di attracco, mezzi e riparo passeggeri per i quali, in collaborazione con il servizio De Manio della regione siciliana, occorrerà un intervento urgente.